benvenuti leggenda spago qui francesco almasi oggi voglio mostrarvi i risultati del sondaggio che vi avevo fatto qualche settimana fa precisamente il 19 di aprile in cui vi chiedevo gli orari migliori di pubblicazione per i miei video nanzitutto vi consiglio se non l'avete ancora fatto per quanto riguarda non perdere nessuna mia notifica visto che ultimamente i feed di youtube non vanno benissimo di seguirmi sul canale telegram ci sono due canali quello classico e quello gaming per color camano di più il live gaming c'è un canale dedicato quindi sapere quando sto per fare live e altro e invece per quanto riguarda l'aspetto delle notifiche vi consiglio di attivare l'ingranaggio se siete da pc per ricevere e attivare le notifiche magari via mail e anche da mobile o entrambe direttamente da questo ingranaggio che vi permette di ricevere ogni video che carico e anche live e poi lo stesso anche da mobile attivando la campanella è un'ottima cosa perché altrimenti rischieresse di non sapere che magari tale giorno ho caricato un video anche perché ultimamente sto caricando i video praticamente ogni giorno quindi rischieresse di perdervi un sacco dei miei video quindi andiamo subito a vedere i risultati come vedete l'avevo aperto il 16 di aprile e il 19 ho pubblicato il video per informarvi per vostra informazione è il 2 maggio quindi proprio il giorno prima di quando pubblicherò questo video e come vedete avevamo messo tre domande per i video settimanali quelle martedì giovedì e sabato che orario preferite live gaming per le live ottimizzate con i link di gta che orario preferite e per i video domenicali che orario preferite quindi risposte sono state 35 risposte ovviamente è tutto relativa perché comunque sono solo 35 risposte sulle 1014 iscritti che ho quindi è veramente relativo come risultato però devo dire che nel complesso come orario di visualizzazione sono praticamente le stesse di quelle che avevo scelto io ovvero il martedì giovedì e sabato rimane alle 14 30 il per le live alle 18 per il 45 7 per cento quindi veramente amplio e per i video domenicali alle 14 ovviamente vi informo che nel caso dovessi portare dei video tipo modifiche di una nuova auto di gta in quel caso lì magari il giorno tipo il mercoledì lo caricherò alle 14 30 magari perché in questo modo ho maggiore possibilità di ricevere feed e comunque non è una live e quindi molto probabilmente lo anticipo per quell'ora in generale comunque i miei video saranno caricati riepilogando il martedì giovedì e il sabato alle 14 30 ho sbagliato a scrivere e la domenica alle 14 e le live gaming saranno ottimizzate alle 18 cercherò di portarvi il maggior numero di video tutti i giorni per ora riesco a farlo perché riesco a trovare il tempo anche per spagarmi quindi riesco a portarvi più video come avrete notato ho iniziato anche la modalità carriera in fifa la domenica quindi è una serie che porterò la domenica e magari qualche volta porterò anche qualche altro contenuto cercherò di portarvi un po di materiale nuovo insomma in generale comunque sono rimasto soddisfatto dei risultati e quindi questo sarà questo è il risultato di questo sondaggio quindi in generale spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e state sintonizzati attivando la campanella o l'ingranaggio per non perdere nessun mio video vi ringrazio ancora per i 1000 iscritti recentemente ho fatto una live e giusto ieri avrete visto il video alle 18 che ho avuto l'opportunità di entrare in un elenco partite di dexta noto youtuber quindi un bel mi piace anche per questo vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ad un prossimo video